Sto lì la macchina come ho fatto portarlo lì? Ok, vedete la sbarra. Non si chiede? Eh, lo taglia. Stasera chi chiuda la sbarra. Io non le taglia, vieni. Una volta mi sono andando. Sì, dettito dell'agenzia viaggi, No, per niente, era nostro, era la sua pipì. Allora, benvenuti tra noi. Grazie. A peccare in discesa, a peccare in discesa. A peccare in discesa. Sono giudice, sono giudice. Spuretti, sono qui davanti a voi. Mi sentite? Tutti Giovanni Oh l'albero c'è un cartello giallo a loro a sinistra Sì a sinistra Ah Mountain room Vedi che ci sono tutti gli sgabelli qualcosa in me Il nostro modo è che ti senti veramente una merda assolutamente no, non mi sento assolutamente quello che hai detto ma tu non mi sento io sì, adesso mi traio sulla faccetta vettore, sono tutti comunisti io mi ho visto che il gatto ci hanno fatto un fatto di politica né per radio né nel touring of road sono tutti comunisti, ce l'avevo di fianco e ha detto sì quando arrivano la porta è scorta, i pantaloni è stampa delle fante quindi si fa inversione, un attimo qua devi dirgli qualcuno degli altri anche perché il lago è lì, perché non ci siamo fermati qui perché non c'è l'erba, non c'è niente andiamo giù nel lago facciamo un giretto nella sponda qua signori benvenuti in quella meraviglia che è il lago Palù che cosa? l'isola forse non c'è l'isola forse ragazzi la mia richiesta è semplice, giratevi su voi stessi fate finta di avere una piattaforma sotto di voi la prossima volta ho metto un buon ricello sul tetto ci stiamo tutti qui e quello sì per forza ma però non ci stiamo lo stesso che si attacca l'elicottero la prossima volta ho metto un buon ricello che si attacca l'elicottero 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 e il lago è un buon ricello che si attacca l'elicottero e la prossima volta ho metto un buon ricello che si attacca l'elicottero un po' di più Poi andai, ne? ah si perché si vedeva giù da sopra ma cosa ne vedeva? non è possibile 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 E' peggio che qui il nostro corso gratuito e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ma quello di non più le palle Qua lì, è l'erano? Sì, con la porchetta Sale la nebbia da là, guarda La schwarza Bies, la schwarza Bies, la schwarza Bies Ok Gio Sì, quando si arriva nel punto più alto, faccio una notte di fiume, da un deserto. Poi c'era la salita, la prima volta non sono andato su, poi ho parlato di biglietti, la seconda è andata su, poi c'era il cemento, che arriva la seggiovia. Marietto, che effetto ti fa a guidare 18 macchine? Sono andato per gli affari miei, sono loro che mi seguono. Ha 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 ha, ha 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 ha. E' un spagio bivio. E' quello l'effetto, è quello. No, la gilberta è bellissima Gilberta, la gilberta, la gilberta Cosa? Sai Gilberta, poi sei venuta bene, te la mando Grazie Toyota, così facciamo passare, Ettore con la Zizza Grazie 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 Andate in strada, Ettore Ok, arrivo, grazie C'è una bocca però, eh Prel'ultimo È colpa sua, ci sono io davanti Giovanni Come vedi il comportamento dei miei ammortizzatori? Che effetto fa stare in mezzo a 10.000 cm3 di cilindrata? Grazie 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 Grazie